Oltre i titoli, radio nuova tra le pagine dei giornali, dalle 8.30 alle 10.30, cronaca e curiosità. Sono le 8.35 di sabato 22 dicembre 2018, un cordiale saluto da parte di Marco Morosini in studio per la rassegna stampa dei quotidiani locali delle Marche, i quotidiani cartacei e i quotidiani online. Partiamo con i primi, ossia con i quotidiani cartacei e con le prime pagine. Corriere Adriatico, edizione maceratese, multe in arrivo, la stangata in bilancio, oltre un milione, previsioni di incasso superiori per via delle contravvenzioni con le nuove spy cam a Macerata. Sempre a Macerata Assunzioni, ora l'edilizia può tornare a sorridere, i sindacati sottolineano il momento positivo e le anomalie sull'applicazione del contratto. Ladro incappucciato ai giardini di Iaz, rubati soldi nei distributori di snack e bevande, ripreso dalle telecamere, il furto a segno nella sala d'aspetto del terminal del bus. A Civitanova una donna sorpresa con droga e coltello e poi lo sport recanatese e sangiustese, oggi anticipi importanti. Arresto del Carlino, Macerata, fotonotizia come il Bronx, piazza Pizzarello, cantiere bloccato, negozianti e residenti, quartiere abbandonato e a questo punto sarebbe meglio abbattere quel mostro. La notizia da Montecassiano, Dignani vincono i lavoratori, revocati i licenziamenti dal sit-in di notte al summit in prefettura, ha trovato l'accordo con la proprietà, il confronto passa ora in regione per attivare gli ammortizzatori sociali. San Severino Marche muore investito dal treno, stava cercando un cinghiale, l'uomo, 72 anni, deceduto poco dopo i soccorsi. Le cronache dal bar del Carlino ha recanati i caffè con i lettori, la bellezza della cultura tra caos, sosta e viabilità. Sempre recanati i guzzini, agli svedesi, ora è ufficiale, polizia, maxiretata antidroga, presi altri due nigeriani. Queste le principali notizie di oggi ed ora approfondiamo il tutto. Partiamo da Macerata e dal Carlino Macerata. La città dei ritardi, cantiere fermo, monta la protesta, ora basta, buttate giù quel mostro. Piazza Pizzarello, negozianti e residenti, bel biglietto da visita, evidentemente. In modo ironico commentano questa situazione, rosso milionario per i colossi dell'edilizia Socab e per la Italapalti, che vanno verso un accordo di ristrutturazione del debito. E così il cantiere di Piazza Pizzarello, che è proprio di Italapalti, sembra destinato a rimanere fermo. Esplode l'ira dei residenti e commercianti della zona, che da sempre protestano per il degrado e per la vista poco piacevole di quegli scheletri che col tempo hanno soprannominato eco-mostro. Varie, naturalmente, sono le reazioni e l'esasperazione appunto dei residenti. L'amarezza del quartiere, qui sembra di vivere come nel Bronx. La crisi morde ancora, ma c'è una buona notizia da Montecassiano. Dignani, revocati i licenziamenti. C'è l'impegno della proprietà. Summit in prefettura giovedì incontro in regione. Revocati, dicevamo, i licenziamenti alla Dignani. I lavoratori sono stati messi tutti in ferie. Questo l'esito del Summit, convocato d'urgenza ieri in prefettura, per tentare di migliorare la situazione in cui si sono trovati i dipendenti della ditta di Montecassiano a tre giorni dal Natale. La prefabbrica di Dignani, che si occupa di manufatti in cemento, ha infatti licenziato tutti e dieci i lavoratori mercoledì, senza contare che otto si erano dimessi nei mesi scorsi per giusta causa. Attraverso la CGL era stato indetto così un presidio permanente davanti l'azienda. Ieri, davanti al prefetto Yolanda Rolli, si sono incontrati una delegazione dei dipendenti, la proprietà della ditta con i commercianti legali, l'assessore ai servizi sociali di Montecassiano, Katia Cerresi, e per la CGL Massimo De Luca e Matteo Ferretti, e il segretario provinciale Daniel Taddei. Dopo due ore di serato confronto, dice De Luca, è stato sottoscritto un verbale col quale sono state immediatamente ritirate le lettere di licenziamento e gli operai sono stati messi in ferie, dato che, tra l'altro, ne hanno molte da recuperare. Il settore, il settore più ampio, quello dell'edilizia, prova a reagire. I lavoratori aumentati del 32,95%, il bilancio dei sindacati per il 2018 ci sono però ancora criticità. Dunque, un settore, quello dell'edilizio, che sembra essere in ripresa, è quanto dichiarato dalle segreterie provinciali e territoriali di categoria FILEI-CGL, FILECISLE e FIENEAL-WILL. Il 2018 si chiude positivamente, il numero dei lavoratori passano dalle 2.650 unità del 2017 alle 3.990 del 2018, più 32,95% delle ore lavorative e denunciate. Verso le feste, macerate il centro, in centro sale la febbre, da Natale, più famiglie in giro per gli acquisti, positivo il primo bilancio dei commercianti, meglio il fine settimana. Promosse da molti commercianti, anche le luminarie, diverse per ogni zona, la pista di ghiaccio allestita in Piazza della Libertà. Operazione Ishan, spaccio di droga, altri due fermati, nigeriani presi a Como e Fiumicino, uno stava cercando di lasciare l'Italia. Altri due arresti nell'ambito della maxi-operazione Ishan sono stati presi, due nigeriani, uno fermato, come dicevamo, a Como, un altro a Fiumicino. Il primo, Efani Eze, 26 anni, è stato rintrecciato casualmente, sottoposto a un controllo, il suo nome è spuntato tra i ricercati. Il secondo, Peter Ojamlen, 24 anni, è stato invece intercettato mentre tentava di andarsene dal paese. Ancora notizia, Camerino, terremoto, 70 sindaci a Roma. Alla proposta hanno aderito anche da Umbria, Lazio e Abruzzo, Pasqui, manifestazione pacifica per far sentire la nostra voce. Il sindaco di Camerino ha deciso di organizzare un incontro ufficiale coinvolgendo gli altri centri del cratere. Quali sono state le risposte? Ci saranno Amatrice, Arquata, Norcia e tanti altri comuni dal Maceratese. Non hanno aderito Tolentino, San Severino e Matelica. Da San Severino, la notizia di Giuseppe Capretta, sui binari per cercare un cinghiale, muore investito dal treno, il 72enne, non si era accorto del convoglio in arrivo, è deceduto poco dopo i soccorsi. Tolentino, verifiche sulla Arpa Foundation. Dopo il lievi dei 5 stelle, la donazione è congelata, la preside del Filelfo, l'importante è avere il nuovo campus. Sulla San Giovanni Bosco Arpa Foundation, che si è offerta di realizzare opere da 4 milioni di euro per il comune di Tolentino, l'amministrazione sta effettuando le verifiche. Secondo la convenzione, il comune dovrebbe mettere a disposizione il terreno e la fondazione costituirebbe l'impianto sportivo per il campus delle superiori. A Bolognola, cavalli nella tormenta, soccorsi con l'elicottero, salvati dai carabinieri forestali e pompieri, in mezzo alla bufera, in elicottero, in auto e a piedi per soccorrere una dozzina di cavalli bloccati dalla neve in una zona frequentata dai lupi, in cima al monte Castelmanardo, sopra a Pintura, di Bolognola. Civitanova, esposto sulla transazione, Villa Eugenia, la Corte dei Conti, dossier inoltrato dal comitato e dai consiglieri di minoranza. Dopo il ricorso al Tarra arriva l'esposto alla Corte dei Conti, il comitato Villa Eugenia pubblica e tutti i consiglieri comunali della minoranza inoltrano alla magistratura contabile il dossier della transazione tra comune e privato preceduto dalla rinuncia dell'ente pubblico al diritto di prelazione sull'edificio storico. Ancora notizie, sempre da Civitanova e dal Carlino Macerata, pagina 23, pranzo di Natale con la Caritas, le porte sono aperte a tutti, l'appuntamento martedì in sede accoglienza per 120 ospiti. A Re Canati, la Guzzini è svedese, la partecipata c'è delle quote e prevista una plusvalenza da 60 milioni. È fatta la lettera di intenti sottoscritta nell'ottobre scorso fra il gruppo svedese Fagerult e la FIMAG finanziaria Mariano Guzzini e in tipo società partecipata da Tamburi Investment per l'acquisizione del 100% delle azioni di Guzzini Illuminazione ha trovato la sua conclusione. Le cifre, il prezzo è di 385 milioni, verrà corrisposto in contanti e nuove azioni. Sempre da Re Canati c'è anche l'iniziativa del Carlino, il caffè con i lettori, soste e viabilità nel mirino, il centro è bello ma sempre vuoto, difficoltà per chi ci lavora, parcheggi pochi e tutti a pagamento, culture e servizi, la città che piace, giusto mix per vivere bene, cronache dal bar, ecco chi promuove la città. A Porto Re Canati il comune la battaglia per le multe, già oltre 10 mila euro di spese legali, ZTL, attesa per le motivazioni delle sentenze. A Potenza Picena patrocinio del ministero al presepe vivente, oltre 300 le persone coinvolte. Trovate a pagina 28 del Carlino Macerata anche le date nel dettaglio. Alle 8.44 ci spostiamo ora sul Corriere Adriatico, qui in primo piano le multe, in arrivo la stangata, in bilancio più di un milione, approvato lo strumento finanziario, previsioni di incasso superiori rispetto agli anni passati, l'assessore Caldarelli, il maggiore introito per le contravvenzioni con le nuove telecamere. Dunque, per il 2019, come riporta il bilancio preventivo approvato giovedì dal Consiglio Comunale, il comune si prepara ad introitare 1.145.000 euro dalle multe contro 1.050.000 che era stato iscritto nel bilancio di previsione 2018 e i 900.000 euro del 2017. Parte dei soldi sarà utilizzata per la segnaletica e la manutenzione e la sicurezza stradale. L'anno prossimo il nuovo comandante dei vigili in arrivo anche la figura dell'agente di quartiere. nemmeno un euro per contrastare lo spaccio di droga la critica del consigliere Marchiori risponde Carancini le risorse già ci sono e ovviamente tra i tanti interventi insomma sono elencati a pagina 3 del Corriere Adriatico di oggi la città cambia volto illuminazione architetturale per sferi sterio piazza della libertà sono soltanto due degli interventi previsti in programma anche interventi appunto per strade scuole ente fiera e strutture sportive. Torniamo a parlare delle edilizie anche dalle colonne del Corriere Adriatico tornano le assunzioni sottolineato dai sindacati il momento positivo per l'occupazione alcune anomalie sul numero di ore attacco frontale all'ANAS per gli appalti al limite massimo del ribasso d'asta con nessun lavoro partito a macerata quell'area verde di via Spalato dedicata alle vittime dell'atrocità l'appello della famiglia di Pamela dopo il voto in consiglio non è stato un comune femminicidio il parco davanti alla casa dell'orrore deve essere dedicato a tutti gli esseri umani vittime di atrocità si fa ancora in tempo quello di Pamela non è stato un comune caso di femminicidio la famiglia della diciottenne romana fatta a pezzi rinchiuse in due trolley rompe il silenzio dopo che il consiglio comunale modificando la mozione presentata da Deborah Pantana ha dedicato i giardinetti di via Spalato alle vittime della violenza sempre a macerata terminal bus ladro incappucciato nella sala è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza è riuscito a forzare la porta d'ingresso una volta entrato nel locale ha preso di mire il distributore automatico di snack e bevande sono in corso le indagini per risalire al responsabile ancora notizie qui c'è appunto un approfondimento sul caso della discoteca lanterna azzurra di Corinaldo iris a caccia di prove piano di evacuazione sotto esame gli specialisti dei carabinieri prelevano tracce di sostanze nel locale un'altra perizia sul via libera alla discoteca a pagina 15 c'è la mappa la mappa della sicurezza dei principali locali delle marche nelle disco controlli con il metal detector i gestori dei locali marchigiani dicono all'estero sono più rigidi ancora avanti ci spostiamo ora a Tolentino Pezzanesi frena sulla donazione 4 milioni da una società per il villaggio scolastico al centro dei controlli dei pentastellati dubbi sulle attività e sui suoi dirigenti poi il sindaco rimbia il punto in discussione in consiglio a Camerino Pasqui e la marcia non sono solo ora una sterzata per il territorio frecciata Pezzanesi guarda i fatti nell'ottica di un comune che ha poche situazioni da risolvere queste parole appunto di Pasqui a Civitanova ora pagina 40 del Corriere Adriatico un nuovo volto per le aree verdi arrivano le spycam antivandali si comincia con la zona tra Viale Vittorio Veneto e Viale Matteotti saranno piantumati 20 alberi i controlli donne in auto con droga e coltello denunciate a una 36enne di Monte Cosa lo sequestrate due grammi di eroina e tre di hashish per farsi identificare utilizzato una tessera sanitaria smarrita dalla legittima proprietaria a Re Canati l'opposizione attacca su Unicam fondi ingenti senza spiegazioni i consiglieri Bertini e Paoletti contestano finanziamenti all'Ateneo per oltre 260.000 euro e poi chiudiamo con lo sport diamo lo sguardo anche all'Ascoli che è stato beffato al 94esimo i bianconeri vedono la vittoria sfumare sul filo di lana il picchio in vantaggio con Rossetti poi pareggia Bisoli Ascoli-Brescia 1-1 poi dicevamo anche la carica Re Canatesi il Forlì è da battere Alessandrini vogliamo fare un bel regalo ai nostri tifosi oggi ci sono speranze per un recupero in extremis di Pera siamo ovviamente in serie D la San Giustese oggi a Iesi sarà un derby caldo i leoncelli sono in cattive acque faranno di tutto per strappare i tre punti ma la lanciatissima squadra di Senigallesi vuole continuare a stupire chiudiamo i quotidiani cartacei e apriamo i quotidiani online da cronachemaceratesi.it il titolo di punta terremotati una vita di sacrifici provateci voi a resistere dall'ottobre 2016 si è abbattuto contro di loro un flagello di inconvenienti di servizi traslochi ripetuti casette allagate stale provvisorie portate via dal vento fogne che non funzionano bollette del gas che non dovevano arrivare se si vuole spopolare la montagna la strada è segnata ma dobbiamo opporci ogni costo a questa prospettiva ancora notizie anche qui da macerata l'area verde di via Spalato meglio intitolarla a vittime di atrocità la famiglia di Pamela Mastropietro sulla richiesta del comune di chiedere ai proprietari di dedicare il giardinetto davanti alla palazzina in cui fu uccisa la diciottenne ancora avanti edilizia trend positivo ma nota dolente il commissario mette a rischio il DURC di congruità il punto di CGL Cisle Will con i dati della cassa e di Ille su un settore fondamentale per l'economia provinciale Tolentino campus scolastico nel limbo Movimento 5 Stelle scopre gli scheletri della fondazione a Bolognola Mandria senza cibo salvato con l'elicottero intervento dei carabinieri forestali dei vigili del fuoco a pintura crisi della prefabbricati di Gnani revocati licenziamenti a Monte Cassiano raggiunto l'accordo con l'azienda spaccio organizzato a macerata in manette atturati a Como a Fiumicino arrestati due nigeriani incidente lungo i binari a San Severino muore dopo l'urto del treno un uomo 72 anni Giuseppe Capretta di Morrovalle si è avvicinato troppo al Cammino Ferrato ed è stato investito da un convoglio 8.50 passiamo a Picchio News anche in questo caso il titolo di punta è dedicato alla famiglia Mastropietro sul parco di Via Spalato se non a Pamela lo si dedicasse a tutti gli esseri umani vittime di atrocità il comitato Sismacentro Italia modifica la procedura per accedere al contributo del bando QIP naturalmente la notizia la trovate su Picchio News Quick Impact Project per ottenere il contributo la procedura indicata dal comitato prevedeva la stipula di una polizza fide iustoria con l'obbligo di aprire un conto dedicato alla Banca Popolare Etica di Ancona naturalmente la vicenda viene ampiamente segnalata frontale tra due auto cinque i feriti è accaduto ieri sera in via Maffeo Pantaleoni due veicoli si sono scontrati all'altezza della scuola media la grande famiglia Lube insieme per celebrare il Natale una celebrazione quella alla presenza di Monsignor Nazareno Marconi passiamo a Mtv quotidiano online legato alla diocesi di Macerata qui le foto la notizia appunto della celebrazione della Santa Messa di Natale in previsione del Natale all'istituto d'istituzione Matteo Ricci di Macerata il vescovo Marconi incontra i giovani del Ricci per Natale peraltro come da tradizione altre notizie da altre zone delle Marche dal Fermano con cronachefermane.it cinque mesi di questura meno reati più uomini da febbraio Soricelli orgoglioso di questa squadra fermo dai dati che abbiamo raccolto le denunce sono diminuite così come gli interventi questa nuova organizzazione sotto alcuni aspetti ancora in itinere ci permette di presidiare con attenzione il territorio soprattutto la costa possiamo dire che l'attività ha prodotto degli effetti significativi e che è stata data una svolta sia a livello di servizi al cittadino che investigativo dritto la rotatoria poi fuori strada rocambolesco incidente in via Garda siamo a porto Sant'Elpidio ferito un cinquantenne che proveniva da Sant'Elpidio a mare ha fatto tutto da solo uscendo di strada per poi urtare un'auto parcheggiata non è grave altro incidente gli sbuca davanti un capriolo uomo rischia di finire fuori strada danni all'auto è successo a Monte Giorgio mi sono preso un bello spavento il racconto dell'automobilista sul posto i carabinieri della locale stazione la carifermo fa storia riconsegnato il santuario dell'Ambro è stato un grande gioco di squadra il presidente Amedeo Grigli ha consegnato il documento di collaudo all'arcivescovo Rocco Pennacchio presente alla conferenza alle massime autorità del territorio dall'Anconetano ora con cronacheancona.it caos sanità maggioranza regionale rischio frattura Ancona sfida Pesaro in una mozione che vede come primo firmatario il capogruppo Gianluca Busilacchi è sottoscritta anche dai consiglieri PD Mastro Vincenzo Volpini e Giancarli chiedono la revoca della delibera il nuovo ospedale Marche Nord come un presidio di secondo livello e poi sicurezza sismica nelle scuole ad Ancona i genitori niente sia lasciato al caso l'appello è stato lanciato durante la seduta monotematica del consiglio comunale ancora avanti da Falconara no al muro sì al mare nasce il comitato contro la barriera anti rumore Ancona anziana investita Torretti indagato per omicidio stradale il conducente del tir si tratta di un 33enne albanese che con il suo camion era diretto al porto sul corpo della vittima l'85enne Marisa Evangelisti non verrà eseguita l'autopsia ancora avanti doppio commissario al parco del Conero Mancinelli sbugiardata dal vice sindaco il consigliere comunale Rubini e le associazioni ambientaliste chiedono l'immediato sblocco della proposta di legge regionale per la riforma della governance dell'ente in stand by da mesi per il veto dei comuni e poi poliziotti eroi di Ancona in udienza da Papa Francesco nel corso dell'incontro organizzato dal Servizio Nazionale di Protezione Civile i sei agenti della volante della questura di Ancona che salvarono dall'annegamento a giugno madre e figlia intrappolate dentro l'auto nel sottopasso allagato di via caduti del lavoro chiudiamo questa puntata di oltretitoli con il meteo vediamo le previsioni dal sito geofisico.it Centro di Ecologia e Climatologia Osservatorio Geofisico Sperimentale Macerata le previsioni per oggi sabato 22 dicembre sulle marche cielo parzialmente nuvoloso salvo temporane schiarite sporadiche precipitazioni sui monti foschie diffuse venti deboli occidentali temperature in aumento mare poco mosso le previsioni per domani domenica 23 dicembre sulla nostra regione persistenza di annuvolamenti interrotti da locali schiarite presenza di dense foschie sulle vallate venti deboli occidentali temperature con ulteriori incrementi nei valori notturni stazionarie in quelle diurni mare poco mosso 8.55 noi a questo punto ci salutiamo ci ritroviamo alle ore 10 con la seconda parte di oltretitoli dedicata agli approfondimenti e alle 12.30 18.40 22 con il giornale radio 13.10 17.15 19.40 con Marche Infinita Cultura rubrica dedicata agli eventi in programma sul nostro territorio tutto disponibile da riascoltare quando volete sul nostro sito radionuova.com da parte di Marco Morosini è tutto grazie per la cortesa attenzione buon proseguimento con i nostri programmi Grazie a tutti Grazie a tutti